Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo aver promosso nei mesi scorsi un importante evento sull'urbanistica sanbenedettese, il gruppo Rigenera SBT sottolinea alcune criticità del progetto di riqualificazione dell'ex stadio Ballarin come pensato dall'architetto Guido Canali. La carenza di visione urbanistica di tutta l'area portuale e costi di gestione di quanto prospettato da Canali sono evidenziati dall'ex assessore Gianluigi Pepa. Le strutture che in realtà sono degli altissimi costi di gestione come ho visto dal progetto, ad esempio il discorso dei laghetti, proprio questo lo posso dire anche da ex assessore al bilancio e al decoro urbano che tutto ciò che comporta l'acqua, che siano laghetti, che siano fontane, sono dei costi di gestione altissimi e quindi bisogna vedere se poi la città è in grado di mantenere questi costi. Benvenga la bellezza, ci mancherebbe, ma ce lo possiamo permettere questa è la domanda. A quel punto in particolare è il collegamento di una città turistica con l'altra città turistica che grotta a mare e tenga anche conto che c'è il porto ma soprattutto c'è la struttura di sgattoni lì vicino che è una struttura obsoleta. Da parte sua l'architetto Daniele Paolini pone dei quesiti circa la sicurezza statica della struttura in cemento armato che potrebbe rimanere in alcune porzioni dell'ex curva sud e della gradinata mare. Ferro, perché lì si tratta di ferro non acciaio, può ancora essere utilizzabile? Mi chiedo, io credo che per questa cosa, prima ancora che progettarne l'uso, l'utilizzo per mandarci sopra delle persone sia necessario un attento studio, può un intervento di questo tipo con laghetti, con giardini, alberi scultura e quant'altro può essere oggetto di una manutenzione ordinaria oppure questo tipo di attrezzature non debbano piuttosto essere sottoposte a una manutenzione più continua, più veloce.